Ha preso il via all'alba di mercoledì 3 aprile il blitz dei carabinieri del ROS e dei colleghi dei comandi provinciali di Torino e Cugno contro un gruppo di estremisti di destra, attivi nel capoluogo piemontese. L'operazione denominata Testugine vede impegnati anche i vigili del fuoco e ha portato a quattro misure cautelari eseguite nei confronti di altrettante persone ritenute vicine ad ambienti di estrema destra. Tentato omicidio, aggravato e continuato e produzione di aggressivi chimici, i reati contestati dalla procura di Torino. L'indagine ha preso il via nel 2018. I fermati gravitano intorno a casa Pound e blocco studentesco. Si tratta di quattro giovani tra i 20 e i 24 anni che avrebbero prodotto in garage un flacone di ricina, un pericoloso veleno che intendevano usare contro un rivale in amore.